A tappe forzate verso la riconfermo, meno di Giovanni Campanella sulla panchina del Vittoria. Il tecnico catanese ha ancora il gradimento dei dirigenti vittoriesi, anche se il recente ingresso in società di Giovanni Polizzi, che rappresenta il nuovo sponsor, la Promoter Sud, potrebbe spostare l'interesse nella ricerca del nuovo tecnico per la prossima stagione in eccellenza. Campanella ha comunque già parlato e discusso con i dirigenti parini, prospettando loro anche alcune necessità da cui sarebbe difficile derogare. Ma quali sono i motivi di tutta questa attesa? Forse la società non è pienamente convinta dalla sua riconferma di un allenatore, ricordiamo, che ha sfidato la vittoria nei play-off regionali? Nulla filtra comunque dagli uffici della società vittoriese, ma la cosa più probabile potrebbe essere una pausa di riflessione degli stessi dirigenti biancorossi del presidente Giovanni Manoforte, il quale ha sempre dimostrato, anche in tempi non sospetti, stima e apprezzamento per il lavoro svolto dal tecnico catanese. E così come è bloccato il discorso allenatore, nemmeno a parlare naturalmente di campagna di potenziamento, solo voci incontrollate di possibili acquirenti ed estimatori per Fabio D'Agosta, Leandro Di Rosa e Luca Bevilacqua, i tre gioellini sulla rampa di lancio, ma siamo ancora agli inizi, siamo a giugno infatti, e il calciomercato dilettantistico sarà come sempre di una durata infinita.